Alec voluta fortemente dal suo presidente, l'avvocato Alfonso Angrisani, per accogliere le presenze straniere in città, in provincia, in regione, ma non solo verso gli altri che vengono da altri paesi. Questa associazione si muove, ma agisce nel sociale a 360 gradi. Buongiorno, auguri, presidente Angrisani, dopo il successo anche napoletano, oggi a Salerno noi festeggiamo con gli amici questo grosso evento. L'Alec, che cosa ha realizzato in questi cinque anni? Allora, innanzitutto voglio ringraziare il SISAF e gli altri partner che ci seguono, tipo l'Ente Nazionale Sol di sezione provinciale di Salerno, l'Associazione Mondo Immigrati di Crotone e tantissime altre realtà, la Ruota, Onlus e tante altre realtà. Sono cinque anni, noi siamo nati piccoli, nel giugno del 2010, piccoli piccoli, in cinque anni abbiamo realizzato circa 43-44 eventi, parliamo di 8 eventi all'anno. Siamo radicati a Salerno, al SISAF esiste uno sportello lavoro e previdenza gratuito, a Napoli abbiamo iniziato un punto ALEC, ieri proprio hanno inaugurato uno sportello per l'infanzia. In questi anni abbiamo avuto circa 6.000 contatti, non solo pensionati, non solo lavoratori, ma anche famiglie monoreddito, anche tantissime realtà. Diciamo la sigla ALEC, come è venuta fuori, cosa rappresenta? ALEC, associazione? ALEC è l'acronimo di associazione lavoratori extracomunitari e comunitali. Noi tuteliamo lavoratori, pensionati, ragazze e madre, donne in difficoltà, questo tuteliamo, come recita lo statuto. Il nostro simbolo è questo sole, sotto c'è un abbraccio, il sole perché il sole è inteso come mediterraneità, come mediterraneità, quando esce il sole è una giornata di sole e ispira serenità. L'abbraccio come accoglienza che noi accogliamo e poi richiamiamo i colori proprio di queste terre, della Campania, della Calabria, della Basilicata, quelle che fanno nel sud. Qui da tanti anni è anche lei una persona molto, ma molto attiva nell'ambra dell'associazione Zeneida. Buongiorno, lei da dove proviene? Io provengo dalla Repubblica Dominicana, un paese meraviglioso e accogliente come la vostra Italia. Da quanti anni lei vive qui in Italia? Quasi 30 anni. Come mai questo abbraccio, è il caso di dire, proprio in sintonia di intenti con il presidente Angrisani? Questo abbraccio proviene dal fatto che noi ci siamo conosciuti sette anni fa, quindi parlando abbiamo visto la necessità che c'era di tutelare i ragazzi immigrati in quel periodo. Poi man mano abbiamo inserito tanti servizi, ci siamo occupando dei lavoratori in generale, ci occupiamo dei bambini che per noi c'è una grande priorità. Per noi i bambini e gli anziani rappresentano la vita, è qualcosa di stupendo. In Italia lei ha avuto difficoltà di inserimento? All'inizio come ogni migrato che viene in Italia, soprattutto io che sono arrivata nell'anno 80-82-83, era un periodo abbastanza particolare per noi. Non è come oggi che l'immigrato ha un punto di riferimento. Noi immigrati in quel periodo praticamente dovevamo lottare con le nostre forze. Oggi diciamo, si viene qualcun parente, sa che c'è casa nostra che si può appoggiare insieme a noi e le difficoltà sono, diciamo, molte, soppocche. Però ringraziando a Dio, l'Italia è un paese accogliente, un paese che dà amore, un paese che dà fiducia, un paese che lo dà tutto. Quindi grazie, grazie mille per tutto, per l'accoglienza, per l'amore e per la protezione. Diciamo che mi sono sentita come una figlia e come il nostro sole. Un grande abbraccio. Lei ha avuto del coraggio, è stato lungimirante all'inizio nel voler dar vita a questa associazione, ma lei sa benissimo anche nella sua qualità di legale che purtroppo gli immigrati creano spesso e volentieri dei problemi. L'episodio nei giorni scorsi a Salerno proprio di una ragazza addirittura, ecco, su un mezzo pubblico, insomma, quell'episodio così scabroso. Lei riesce invece ad avere fiducia nei confronti dell'immigrato, a rapportarsi come? Allora, bisogna fare proprio una differenza. Abbiamo l'immigrato che qui lavora e l'immigrato che qua commette dei reati. Allora, di questa cosa noi nell'associazione Alec, l'immigrato che vuole commettere dei reati, che vuole fare matrimoni misti, matrimoni illegali per ottenere il permesso di soggiorno oppure che vuole commettere attività del meritrice o dello spaccio, è scacciato fuori. Allora, bisogna fare questa cosa, bisogna dire questa cosa. Salerno abbiamo delle fasce, sono sempre le solite, vicino la stazione ferroviaria di Piazza Vittorio Veneto ci sono romeni rom che commettono reati, ci sono romeni che mettono gli imbalidi civili lunghi supermercati a chiedere l'emosina. Esiste una vera e propria mafia di alcuni rom, dico alcuni rom perché non voglio prendere nessuna denuncia, ma esiste una mafia dove mettono poveri imbalidi civili, li prendono dai villaggi della Romania e li mettono davanti a tutti i supermercati. Oppure non ci dimentichiamo, quello che è stato denunciato diverse volte anche da questa amministrazione comunale, ci sono dei luoghi di ritrovo, dei bar dove vengono frequentati da alcuni magrebini che somministrano sostanze alcoliche, ma anche da persone con attività del meritricio. Non ci dimentichiamo molte volte, specialmente dalla testata dentro Salerno, ho denunciato il caporalato domestico, ci sono piazze cittadine tipo Piazza San Francesco, tipo Piazza Malta, dove vengono venduti posti di lavoro ed è una vergogna. Oppure ci sono alcune realtà dove i magrebini sposano cittadine comunitari, nella fattispecie romene, non voglio dire niente contro i romeni, molti soci romeni, abbiamo anche qui la signora Mariana Pantauro che saluto, dove molte volte esistono i luoghi di ritrovo, i magrebini, i romeni, succedono queste cose, non tutti i romeni, perché qua abbiamo i romeni lavoratori, abbiamo tanti esercizi commerciali di romeni, come i bulgari, esiste una comunità bulgara bellissima, esiste una comunità honduregna bellissima, io sono anche consulente del consolato onorario dell'Honduras, l'unico consolato a Salerno, e quindi su questo fenomeno qua è legato al delinquente, intendiamoci. Poi una cosa voglio dire, una cosa che noi abbiamo ribadito più di una volta, molte volte sia i mass media sia i politici fanno vedere che l'immigrato, esiste l'equazione tra immigrato e delinquente, non è vero, anche la legge Bossi-Fini, che ormai è vecchia, non ha fatto altro che penalizzare l'immigrato che viene a lavorare, perché io credo che una ragazza ucraina che viene qui a lavorare e perde il permesso di soggiorno, non può essere una irregolare, non può essere dedita ad alcune attività. Oppure, per farvi un esempio, esiste tutta anche, voglio fare anche un altro esempio, molte volte dicono questi vengono qui a sbarcare, per colpa vengono a sbarcare, ci sono alcune forze politiche che dicono vengono qui a sbarcare, queste forze politiche, loro hanno firmato dei trattati internazionali che hanno permesso che lo sbarco, l'immigrato, l'irregolare, il rifugiato, perché loro sono rifugiati politici di questi qua, vengono nel nostro paese e devono essere ospitate nel paese dove avviene lo sbarco. Questa cosa qua fu varata anche dalla lega di Salvini, all'epoca rappresentata da Bossi-Maroni, poi non mi interessa più di tanto. Oppure, per farvi un esempio, ci sono stati tantissimi governi nazionali che hanno finanziato i campi Roma. Ci sono realtà campane come Napoli, io appena entro a Napoli, lavoro a Napoli, appena prendo la sita e verso la zona di San Giovanni a Teduccio, vediamo delle vere e proprie baraccopoli Roma. A Salerno questa cosa non c'è bisogno, perché io credo che Roma, cioè il nomade, la persona nomade, io conosco i pastori dell'Asia, che sono nomadi coloro che non hanno una dimora, che regalano la loro attività, ma non chi ne tiene campi Roma, tiene oro, tiene macchine, questi qua non sono nomadi. Quindi bisogna un attimino effettuare sempre un distingo, Avvocato Angresani, perché non si può generalizzare, ci sono persone che spesso vengono qui perché veramente fuggono dal proprio paese in guerra, o da situazioni scabrose, altre invece che vengono qui perché cercano un inserimento anche ai limiti della legalità. Noi qui abbiamo tanti amici, tanti ospiti, anche stamattina vediamo l'espressione di vari paesi, insomma abbiamo un po' Bulgaria, Romania, insomma abbiamo varie persone che sono venute qui e da anni vivono in Italia. Allora lei viene da Romania, un paese molto bello, è la vostra Italia, mi trovo benissimo qua, ultimamente sto senza lavoro, solo di notte lavoro con 300 euro, però non c'è problema questo, e bisogna lavorare alle notte, sì. Lei ha famiglia in Romania? Sì, ho la famiglia, solo mio fratello e i miei figli sono sposati, i miei figli abitano in Spagna, è sposata anche lei, e mi tengo di maschio, uno è sposato e uno no. E mi trovo benissimo qua in Italia, è come un amore. Quindi non pensa di ritornare in Romania, si è inserita bene? No, 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 mi trovo benissimo. Lei viene? Io, anch'io vengo di Santo Domingo, Repubblica Dominicana. Da quanto tempo in Italia? Sono 24 anni. Mamma mia, tanti. Lei pure lavora? Sì, lavoro, ma soprattutto negli ultimi periodi, infatti la mia conoscenza con l'ALEC è stata tramite le associazioni con le quali stiamo collaborando, e che io non ho abbracciato con il loro abbraccio, ma io ho fatto di più perché mi sono trovata in una famiglia che posso dirvi che ho trovato una famiglia, che è l'importante. Certo, e come tipo di attività lavorativa? Lei si è inserita dove? Sì, di inserirmi mi sono inserita perché riesco a fare abbastanza i lavori, quindi lavoro con patronati, sto facendo delle pratiche per quanto concerne anch'io, giù in Calabria Assistenza, tutto ciò che si riesce a fare riusciamo a farlo. Bene, bene, quindi l'Italia è un paese immigrata a Bulgara. Sì. Da quanto tempo qui? Da 11 anni. Anche lei è straniera immigrata a Bulgara, da 11 anni qui? Da 11 anni in Italia. Sto lavorando da inizio come badante, poi assistenza verso i malati, ho lavorato pure in una lavanderia industriale, ho fatto diverse cose. Una sua impressione sull'Italia, sugli italiani, come li ha trovati? Ha avuto delle difficoltà sociali, ha trovato delle resistenze, o ha trovato anche lei dell'accoglienza? Da inizio era difficile, però poi con tempo cose sono risolte. Ho trovato casa, residenza, persone che mi hanno aiutato per lavoro, e pure sono stata rispettata da queste famiglie. Bene, quindi l'Italia è un paese accogliente, non si pensa assolutamente di lasciarlo. Per il momento no, mi trovo bene. Non penso di andare. Di ritornare. Bene. No. Ritorno per i vacanze, però per il lavoro resto. Diciamo un attimo, qual è il rapporto con gli enti sul territorio? Siete stati accolti, accettati? Allora, si può dire innanzitutto che con gli enti inizialmente eravamo un po' messi da parte, però adesso con il comune di Napoli, con la provincia di Salerno, e con altre realtà territoriali, anche il comune di Rofrano, riusciamo a dialogare adesso. Io una cosa voglio chiarire, le prossime iniziative dell'ALEC, innanzitutto partiamo attivi con un servizio per l'invalidità civile, dove a cadenza settimanale, il lunedì a Salerno, il martedì a Napoli, noi andiamo proprio a vedere le pratiche, andiamo proprio a recarci presso gli sportelli a vedere le pratiche, perché il legale, l'avvocato, è quello che cammina con la borsa, è quello che va nel cuore della pratica. È sempre attivo questo sportello al SISAF, ringrazio il presidente del SISAF, Maria Di Lieto, il coordinatore Gabriele Petruziello, e tutti gli altri operatori del SISAF, è sempre attivo. Dobbiamo partire con tre bellissime iniziative, una cosa che sta a ieri, noi siamo reduci da una bellissima inaugurazione, lo sportello per l'infanzia, e quindi che a Napoli, proprio nel cuore di Napoli, abbiamo attivato questo sportello, dobbiamo fare tre bellissimi convegni, due a Napoli e uno a Salerno, e ovviamente il nostro direttore sarà lì, uno sugli immigrati, dove verranno ovviamente invitati tutti i consoli, qualche ambasciatore, un altro invece lo faremo sull'invalidità civile a Salerno, perché gli invalidi sono una categoria che viene snobbata dal legislatore nazionale e locale, e un'altra invece ovviamente vorremmo fare sempre sull'infanzia, sempre a Napoli, perché è nata questa cosa qui a Napoli, non ci dimenticiamo una cosa, ci siamo dimenticati di dire, che noi a maggio scorso, il 16 maggio, abbiamo fatto una pergamena per la solidarietà, dove noi abbiamo monitorato, abbiamo visto le realtà sociali che si sono adoperate per le persone, ad esempio a Salerno abbiamo premato questa bellissima testata dentro Salerno, che è stata aperta, proprio alle problematiche sociali, abbiamo premato personaggi come Mario Conte, come Luigi Bernabò, Patrizia Sasi, Penso Carrella, anche tutte persone che hanno dato quella, sono riuscite a dare quella forza. È stato un momento, sì l'avvocato Tommaso Ferri, molto molto bella insomma questa manifestazione, perché ha messo in grado anche altre associazioni di conoscere la solidarietà. Sì, ma soprattutto voglio dire una cosa ancora, per il fatto del sportello dei bambini, mi raccomando, il nostro sportello a ieri è stato inaugurato, è stata un'inaugurazione fantastica, dove i bambini ci sono stati, ci sono divertiti, sono bambini che voi sapete, viene di una faccia molto debole, quindi deve essere protetto, e deve essere aiutato sempre. e quindi io spero di cuore che mi affiancate sempre e forza con i nostri bambini, forza con i nostri anziani, forza tutti insieme ce la possiamo fare. Quindi siamo una grande famiglia, insieme, sempre, ce la possiamo fare. Grazie a tutti e buona giornata e diamo inizio al nostro evento. Auguri Alex! Grazie a tutti!